Abbiamo con noi il direttore del master, il coordinatore scientifico, l'amministratore delegato di una delle aziende partner e una delle ex alunne di questo master. Scrivete tutte le domande nella sezione BNR che trovate nella vostra finestra Zoom. Lascio adesso la parola al professor Frey, direttore del master. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Vado a condividere il mio schermo con una presentazione. Controllo che la vedete tutti bene. Tutto a posto? Sì, perfetto, grazie mille. Allora, come vedete il tema del master è quello della Circular Economy ma il titolo è Dalla gestione efficiente delle risorse alla Circular Economy perché è l'ultima evoluzione che il master ha avuto ormai da diversi anni e quindi all'inizio mi premerebbe farvi capire qual è stata la logica attraverso la quale noi siamo arrivati a questa che è la 26 edima edizione del master. Quindi il master sull'ambiente storico, il primo in Italia. Lì vedete alcune delle rappresentazioni, delle rocandine negli anni passati. La sigla GECA è quella originaria, gestione e controllo dell'ambiente, che poi dal 2013 dopo essere passata attraverso 5 edizioni dedicate ai rifiuti è diventata in gestione efficiente delle risorse. Quindi lo vedremo poi rifiuti ma anche acqua e anche energia. E dal 2017 il tema è diventato quello dell'economia circolare. Quindi una delle classiche evoluzioni che è legata poi all'attualità dei temi e soprattutto alla richiesta del mercato del lavoro rispetto a certi tipi di professionalità. Il punto di partenza del nostro ragionamento, il master è interdisciplinare quindi con tantissime competenze ma diciamo che c'è un taglio manageriale che caratterizza un po' il fio rouge ma soprattutto poi la parte finale del master stesso. La prospettiva manageriale è quella che uno dei guru del management Michael Porter definì così già nel 1995 ovviamente con una notevole preveggenza rispetto a quello che è stato poi lo sviluppo di queste tematiche. Quindi vedete la dichiarazione di porte a cui riportata è quella che dice un buon manager deve essere capace di gestire i rifiuti come un'inefficienza e quindi come un qualcosa che richiede la stessa attenzione della gestione delle inefficienze economiche. Ridurre gli sprechi è comunque riconducibile alla logica della massimizzazione del profitto in quanto presuppone l'uso efficiente degli input, la sostituzione di materiali, la minimizzazione delle attività non necessarie. Di fatto questa dichiarazione la potremmo considerare antelittera ma anche un ragionamento coerente con quello che poi è stato lo sviluppo dell'economia circolare successivamente. Qui vedete una definizione forse più in voga di economia circolare, quella dell'NL McCarton Foundation che dice che l'economia circolare è legata a una logica rigenerativa. Oggi si parla molto di regenerazione, siamo anche in una fase rigenerativa dell'economia e quindi si capisce perché l'economia circolare sia un driver così importante nel nuovo modello di sviluppo e produzione che caratterizza oggi. La logica è che è dentro il Green Deal, che è dentro la prospettiva del PNRR, che è dentro la prospettiva poi anche della sfida del cambiamento climatico. Esco da tre giorni, oggi mi collego da Milano che sono legati alla COP26, oggi pomeriggio avevamo un incontro proprio con le aziende, con il ministro Cingolani, in cui si ragionava di cercare di capire se i nuovi modelli di sviluppo che noi europei stiamo portando avanti, anche grazie a questo notevole sforzo connesso al Green Deal, possono essere anche portati dall'altra parte del mondo. Questa è la sfida importantissima che con la COP26 andremo a vivere insieme. E quindi questa logica poi della rigenerazione è anche legata alla ripresa post-pandemica, evidentemente. Però la definizione ci dice rigenerativa by design, quindi che parte dalla progettazione, dalla progettazione dei prodotti. I prodotti devono essere pensati per essere circolari, vuol dire tantissime cose, vuol dire durare di più, vuol dire essere smontabili per poi essere reaggregati, vuol dire utilizzare materie prime e seconde il più possibile e quant'altro. Quindi è un tema a tutto tondo per quanto riguarda poi la logica evolutiva delle imprese. Ma deve essere anche restorative by intention, cioè deve essere capace di ricreare quelle condizioni di cui l'intervento umano, lo sviluppo industriale ha privato l'equilibrio con la natura. E quindi la logica del usare energie rinnovabili il più possibile, minimizzare inquilanti. Poi vedremo con l'ingegnere Controniola come ci siano aziende che hanno proprio nel loro core business questo tipo di attenzione. E quindi prestare la massima attenzione al ritrovamento di un nuovo equilibrio con la natura. Quella era una definizione, diciamo, da parte di un team tank, molto noto a livello internazionale. Abbiamo fatto alcuni esercizi con le imprese per capire come loro si trovavano a definire in maniera più pragmatica l'economia circolare. Vedete, questa è una definizione divisa con un po' di imprese all'interno di un esercizio che abbiamo fatto, tra l'altro all'interno di una partnership con Global Compact, l'iniziativa delle Nazioni Unite. Vedete, l'economia circolare è un paradigma basato sulla rigenerazione, la parola rigenerazione torna, del capitale naturale e poi dice come? Attraverso la revisione dei modelli di business. Quindi le imprese cambiano i loro modelli di business, ma anche di consumo e quindi noi consumatori siamo chiamati ad essere una parte importante di questa prospettiva lungo tutta la catena del valore, quindi attraversa tutte le diverse fasi. Abbiamo parlato di progettazione, ma ovviamente si arriva attraverso la produzione e la logistica, il rapporto col mercato e poi fino al riciclo che è la parte che consideriamo più naturalmente riconducibile a questa dimensione, ma è che è soltanto un pezzo del ragionamento complessivo. Vedete anche sotto una definizione invece fatta un pochino più articolata attraverso attori non di impresa e vedete le sinergie intera e interorganizzative, l'attenzione a un approccio basato sulla conoscenza, quindi poi quello che lo scopre il nostro master è per creare le competenze, per comprendere, misurare, analizzare le opportunità in quest'opera. Ci portiamo dietro l'impostazione dell'attenzione sotto il profilo delle risorse, poi Paolo Ghezzi dimostrerà come la prima parte del master sia proprio basata sul creare una consapevolezza dentro le filiere chiave della gestione delle risorse, proprio per poi entrare nel merito di come l'economia circolare può essere un modo per ripensare più strutturalmente proprio il paradigma, come diceva la definizione, il modello complessivo con una logica assolutamente intersettoriale che vedete la prospettiva delle risorse in circolo che poi è diventata l'evoluzione del master stesso. Il perché l'economia circolare credo che sia noto a molti di voi, c'è stata un'evoluzione nella legislazione comunitaria, prima del Green Deal che ha portato nel 2015, anno importantissimo dal punto di vista degli eventi istituzionali perché è l'anno della Coppa di Parigi, è l'anno dell'agenda 2030, è stato anche l'anno del primo piano dell'Unione Europea sull'economia circolare, poi seguito da una serie di pacchetti e più recentemente proprio nell'ambito del Green Deal dal nuovo pacchetto sulla circolare economica. Questo era quello del 2015, vedete partiva dalla revisione di una serie di direttive sui rifiuti, questa è anche la ragione per cui il nostro percorso di evoluzione del master ovviamente ha trovato un naturale sviluppo in quest'ottica, un'attenzione vedete a tutte le diverse fasi del ciclo di vita, dalla produzione al consumo alla gestione dei rifiuti stessi e alcune strategie verticali perché la prima è stata quella sulla plastica che ha anticipato la nuova evoluzione, il new circular economy action plan, uno dei primissimi atti post uscita del Green Deal, il Green Deal vi ricordate di dicembre 2019, l'11 marzo esce il nuovo piano d'azione che come vedete ha la finalità di riconvertire i processi produttivi in un'ottica funzionale all'economia circolare, tra l'altro l'economia circolare dopo l'intervento sull'energia è il secondo ambito che può contribuire alla riduzione del gas sell anche nella prospettiva dell'accordo di Parigi e qui vedete alcune delle finalità principali di questo nuovo piano d'azione, come dicevamo il secondo che presta attenzione a molteplici azioni in tutta una serie di settori e di filiere, la plastica come vi han detto era già maturata la strategia un anno prima e oggi ci troviamo poi alla sua applicazione concreta con l'eliminazione dei prodotti monouso ma qui vedete tutti gli altri settori in cui questo tipo di prospettiva è entrata in gioco, l'elettronica importantissima perché è uno di quei settori che probabilmente aveva una logica più anticircolare, pensate al telefonino nella sua configurazione classica e la sua non smontabilità per esempio e tranne alcuni prodotti di nicchia come Fairphone sicuramente i grandi player fino a qualche anno fa non si ponevano in quest'ottica, oggi lo fanno ma c'è stata anche una spinta forte da parte della Commissione Europea, la Commissione Europea ha detto per esempio che non si poteva più operare nella logica dell'obsolescenza programmata, cioè far invecchiare il modello X-1 a favore del modello X, cosa ampiamente successa in questo comparto, oppure rendere universali per esempio le ricariche, la componentistica accessoria, queste sono alcune delle tante azioni anche mandatorie, cioè obbligatorie messe in campo dalla Commissione Europea. C'è il tema delle batterie, dei veicoli, tema caldissimo, le auto elettriche non soltanto pongono un problema, qual è la fonte e da qui tutto il nostro ragionamento sull'energia che le alimenta ma anche come le si riciclano, imballaggi, plastiche, il settore tessile abbiamo visto come la moda vi ha sposato moltissimo questo tema, anche al di là di alcuni slogan di grandi firme italiane che durante il lockdown hanno dichiarato dobbiamo smetterla col fast fashion e bisogna ritornare a una logica più basata sulla sobrietà e sulla durevolezza dei prodotti, tra l'altro strategia propria del made in Italy. Costruzione edilizia è un campo di azione enorme da questo punto di vista e tutta la parte sull'agroalimentare che ovviamente si connette anche ad altre strategie all'interno del Green Deal. L'altro punto di riferimento importante che abbiamo, oltre che quello delle politiche europee, a livello globale è l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, qui c'è l'obiettivo 12 che è proprio consumo e produzioni responsabili, anche il simbolo dell'etichetta dell'SDG 12 evoca l'economia circolare, ovviamente tanti altri SDG sono connessi a questo, abbiamo detto del cambiamento climatico, anche molti altri, però effettivamente il 12 è un po' il cuore del ragionamento che noi andremo a fare, 12 che peraltro se andiamo a vedere una delle classiche rappresentazioni, sapete che sugli SDG ci stiamo misurando a tutti i livelli, persino le università lo stanno facendo, i rossi indicano il fatto che nella maggior parte del mondo è un obiettivo assolutamente critico, insieme al cambiamento climatico che lo è ovunque e quindi una priorità d'azione. Abbiamo detto del Green Deal, nel Green Deal se al primo posto ci sono gli obiettivi di decarbonizzazione e quindi il clima, vedete al secondo posto c'è l'energia strettamente connessa, al terzo proprio mobilitario e l'industria per un'economia pulita e circolare, questi sono i punti cardine di un processo che poi ovviamente mette in pista anche il tema delle risorse finanziarie, questa è un'altra delle tematiche che tratteremo durante il Master, come finanziare la transizione, un tema caldissimo nel momento in cui entro il 2026 dobbiamo essere capaci di spendere le ingenti risorse che ci sono state messe a disposizione dall'Unione Europea, non lasciando indietro nessuno perché poi è un altro degli slogan chiave della Commissione Europea, che questa deve essere una just transition, quindi una transizione giusta, una transizione che tra l'altro l'abbiamo chiamata transizione ecologica con un ministero, ma è una transizione verso la decarbonizzazione, verso transizione energetica, transizione verso l'economia circolare e anche verso altri aspetti come la mobilità che trovate in basso a destra in questa classica rappresentazione. L'economia circolare anche nel PNRR pesa tantissimo, vedete pesa circa un terzo, quindi ha una valenza rilevantissima per migliorare la sostenibilità e la resilienza del Paese e del sistema economico, questo ci dà un'ulteriore spinta rispetto alle tematiche che trattiamo all'interno. Qui vedete un'altra rappresentazione di come si è messi sugli SDGs, in tutti gli anni emerge sempre che il 12, lo vedete, è rosso anche in Italia, quindi al di là di quella rappresentazione globale che abbiamo visto precedentemente, qui c'è una slide che evoca alcune delle connessioni principali che esistono tra la trasformazione digitale, qui evocata da Industria 4.0, sapete che la Commissione Europea addirittura ha introdotto già un concetto ulteriore, più prospettico, di Industria 5.0 in cui peraltro tematiche come l'economia circolare e gli aspetti human centred entrano in gioco in prima istanza. E vedete, questi, non sto a descrivere, li vedete molto rapidamente, sono alcuni degli elementi chiave che caratterizzano la connessione che esiste tra economia circolare e Industria 4.0. Questo invece è un passaggio che articola un po' meglio, usando il gioco a delle R, quel ragionamento del ciclo di vita complessivo che viene interessato dall'economia circolare. Possiamo partire da dove vogliamo, se partissimo dalla storia del nostro master partiremmo dall'area di recycle, quindi il riciclaggio post-raccolta per avere materie prime riutilizzabili. Oggi nel mondo sono soltanto l'8% le materie che non vergini arrivano da questo processo di riciclo. Ovviamente anche la pressione, abbiamo visto, sull'energia dei prezzi delle materie prime sui mercati induce a rendere questo tema della circolarità strategico, anche per le imprese per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. Diciamo che oggi noi partiremmo non da qui, ma il nostro giro lo faremmo iniziare dal design, proprio perché la progettazione di prodotti con certe caratteristiche, a maggior ragione del made in Italy, è quella che poi attiva l'attenzione a fonti riciclate o rinnovabili di materie prime, di risorse energetiche, di acqua e quant'altro. Poi la produzione vuol dire fare re-manufacturing. Cos'è re-manufacturing? Vuol dire che io recupererò, pensate, un motore che ha fatto la sua vita, di cui alcune componenti sono completamente riutilizzabili perché hanno una vita molto più lunga, altre che dovranno essere sostituite. Però la smontabilità mi consente di rigenerare un motore che poi viene riutilizzato mantenendo alcune componenti chiave, quindi risparmiando in termini di uso dei materiali e di costi. Così come nella distribuzione la logica non è soltanto fare andare dei mezzi più sostenibili possibili in una direzione più carichi che si può, perché questo è un problema di utilizzazione, ma anche farli tornare indietro, magari tornare indietro con quei motori da riassemblare di cui parlavamo in precedenza. Poi noi consumatori siamo chiamati ad avere un comportamento più parco, a ridurre i consumi e poi entra in gioco il sistema di raccolta in cui prepareremo un master anche in modo dedicato perché è un pezzettino del sistema assolutamente importante. Nella prospettiva dell'impresa ci sono molti vantaggi che l'economia circolare può mettere in gioco e la transizione è una transizione come tutte le transizioni complesse, graduale, come tutte le transizioni legate ai temi ambientali, oggi urgenti perché non c'è molto tempo per ritrovare quell'equilibrio di cui parlavamo in precedenza e vedete che questi sono alcuni dei tanti temi, poi li vedrete declinati all'interno del programma del master, che costituiscono un po' gli aspetti di maggiore interesse per le imprese, quindi la costruzione di quelle competenze che per noi sono particolarmente significative all'interno del percorso culturale che facciamo nel master. Ma alle imprese bisogna anche mettere in evidenza che l'economia circolare conviene, questa è un'indagine che abbiamo fatto un pari di anni fa, ha coinvolto 3.500 imprese, quindi è ancora una di quelle con una sarve più numerosa tra quelle che continuiamo a fare, che confermano questa linea di tendenza, lì vedete l'attenzione ad alcune delle fasi che abbiamo descritto precedentemente, c'è anche un che cosa siamo andati a cercare per capire quanto le imprese erano circolari, quello che volevo però mettervi in evidenza sono i risultati che vedete nella tabella sotto. Le imprese più circolari, lì è stata fatta una clusterizzazione, vuol dire semplicemente un'aggregazione per tipologie omogenee di imprese, diciamo che un 8% si è impegnato su tutti gli ambiti della circolarità, sono i cosiddetti circular champions e vedete hanno performance molto molto buone, è dato dal indicatore positivo della correlazione ma anche dal valore di quell'indicatore, sono i migliori in generale, sia dal punto di vista del trend di fatturato, sia dal punto di vista della crescita degli impiegati dell'occupazione, sia dal punto di vista della crescita dei clienti, tutto in un arco temporale triennale. Anche coloro che non hanno sviluppato proprio tutte le fasi del ciclo di vita in ottica di circolarità ma si sono concentrati più sulla progettazione, sul design e sul rapporto col mercato, i cosiddetti circular designer hanno prestazioni molto buone. E questa è una seconda dimostrazione nel quadro, la circolarità paga, paga anche al contrario perché le imprese lineari, che sono i due terzi peraltro, quindi sono una parte abbastanza importante dei rispondenti, sono quelle che performano decisamente più. Quindi il risultato da quel punto di vista è evidente in termini di interpretazione. Sono competitivi quelli che si muovono verso la circolarità, non lo sono affatto quelli che non si muovono. E in più questa logica dei designer che comunque, anche se si sono focalizzati su alcuni aspetti, riescono ad avere delle buone performance. in un'ottica di sistema ci sono alcune delle parole chiave che lì vedete indicate, su cui entreremo nel merito all'interno del master, così come anche il tema della creazione delle competenze sta diventando importantissima. Questo è un driver rilevante per la nostra proposta formativa. Ed anche, questi sono dati non strettamente riconducibili alla circolarità, ma i green jobs, l'indagine che viene fatta tutti gli anni, tra poco tra l'altro uscirà quella nuova con i dati più recenti da parte di Simbola, e vedete che i green jobs crescono in maniera abbastanza consistente, pur in un periodo del mercato del lavoro infelice, ma soprattutto è più interessante ancora quella tabella centrale, in cui se andiamo a guardare le attività di progettazione, ricerca e sviluppo, addirittura i due terzi delle nuove assunzioni da parte dell'impresa sono con figure che hanno competenze di tipo green. Tra l'altro, vedete, i due terzi dei nuovi entranti in un mercato del lavoro che per il momento è costituito da un 10%, circa poco più di 30 milioni, gli occupati nel sistema, e qui di cui 3 milioni e 100 con competenze delle nuove. Molto interessante è anche il confronto tra green e non green, quindi il cerchio esterno è quello del green, vedete il tempo indeterminato in termini di assunzione è più che doppio, è più che triplo, quasi quadruplo, di livello di lauea rispetto a questi tipi di competenze. Quindi i percorsi di master post-aurea sicuramente trovano un loro spazio dal punto di vista delle linee. Qual è il nostro approccio? E su questo io direi che possiamo anche passarci poi una parola tra me e l'ingegnerie Zzi. Vedete, noi diamo molta attenzione alle metodologie didattiche che si mettono in campo, all'interazione reale, all'usare strumenti che coinvolgano l'impresa, attenzione a quelle che poi sono le competenze effettivamente richieste che poi andiamo ad applicare concretamente sia nei laboratori, poi vediamo cosa sono, sia all'interno poi del percorso di stage. Quindi la nostra attenzione con i partner a costruire questi tipi di percorsi è assolutamente centrale e con questa slide io termino e passo la parola a Paolo Ghezzi. Interrompo la condivisione così lui può usarla direttamente e farla scorrere secondo i suoi tempi. Bene, grazie Marco. Buonasera a tutti coloro che si sono collegati. Ovvio che per avere un quadro approfondito di tutte le tematiche che il professore ha richiamato servono competenze trasversali, serve molto impegno, serve un'applicazione costante nell'arco dell'anno del master che vada da un'esperienza formativa diretta sulle informazioni e sui dati di base per poi cercare una declinazione pratica insieme alla collaborazione delle imprese. e infatti noi cerchiamo di fornire attraverso un impegno significativo di tipo frontale oltre 610 ore poi vedremo sono di più di lezioni con docenti, con professionisti, con responsabili di impresa che potranno fornire tutta una serie di nozioni, documentazioni e trasferire anche una certa esperienza pratica maturata nell'arco di un'intera carriera. Il master è fondamentalmente suddiviso in due parti che trattano materie separate ma ovviamente collegate e complementari. La prima parte che come ricordava il professore è un'evoluzione del master storico prima che la circolarità diventasse un target così importante e quindi è tutta una parte di base che va da le tematiche del bilancio a quelle giuridiche per passare poi a tutta la gestione efficiente delle principali risorse quindi rifiuti, sottoprodotti, risorse idriche, energetiche, il loro collegamento ma in parte anche la comunicazione che è un altro tema abbastanza significativo della corretta rappresentazione di queste tematiche per poi passare a una seconda parte di duecentodieci ore che invece tratta più dettagliatamente i temi del green management e della circular economy. La prima parte quindi vede una serie di elementi propedeutici di base che servono per rendere un pochettino tutti i profili di formazione diversi che giungono al master da quelle più tecniche a quelle più giuridiche a quelle più umanistiche per far sì che poi nell'arco delle lezioni successive di moduli un pochettino più approfonditi e tecnici ci sia possibilità di di attingere a dati di base omogenei quindi effettivamente si parte nelle prime settimane con una full immersion di materie propedeutiche per propedeutiche intendiamo anche chimica, ecologia, geologia, idrogeologia, fisica, tutte piccole nozioni di base che consentono poi di approfondire temi un pochettino più complessi che vengono nelle parti successive. Stessa cosa vale per la normativa ambientale e tutti gli elementi di economia e bilancio che sono fondamentali per comprendere poi altri sviluppi del master. Si passa poi a diciamo i moduli didattici specializzati quindi tutta la parte sui rifiuti, sottoprodotti e le materie prime e secondarie, tutto il ciclo delle acque, la parte del ciclo efficiente dell'energia e poi le tematiche legate alla regolazione policy che comprendono anche attività abbastanza specifiche su tutta la parte autorizzatoria di ciò che governa i processi collegati ai moduli precedenti. Fa sempre parte di questa diciamo prima area di master l'orientamento sul mercato del lavoro, ovvero una parte molto interattiva che consente di affinare innanzitutto delle skills come l'inglese tecnico e le tecniche di comunicazione che ho già richiamato prima, ma nello stesso tempo di interagire per comprendere l'orientamento sul mercato del lavoro e le possibilità reali di offrirsi per le competenze che si sono acquisite nell'arco del master. Nella seconda parte si entra invece in un dettaglio come dicevo più diretto verso il green management e la circular economy e quindi strategie per un'economia circolare, fondamenti di green management, sistemi di gestione ambientale fino ad arrivare agli aspetti legati alla logistica e distribuzione, il green marketing e passando attraverso l'eco design, la circolarità dei cicli produttivi e tutti quei temi che il professore ha richiamato nella parte introduttiva. La formazione è impegnativa e viene verificata costantemente alla fine di ogni modulo, viene integrata attraverso visite sul campo presso strutture aziendali, viene integrata da attività di laboratorio di cui parleremo a breve, da seminari specialistici e si conclude come vedremo con uno stage abbastanza impegnativo presso le aziende che si sono rese disponibili all'interno del settore di competenze. I laboratori sono un primo vero passo verso l'interconnessione fra le conoscenze acquisite e l'applicazione reale, quindi esistono delle aziende che sono partner del master che si rendono disponibili a elaborare progettualità con gruppi di allievi che non superano il numero di cinque, con un tutor scientifico che è un docente del master che affianca invece i responsabili delle aziende per sviluppare temi di interesse pratico. Quindi sono veri e propri diciamo laboratori operativi in cui gli allievi si mettono alla prova in tematiche abbastanza innovative e di interesse aziendale. Questi sono i laboratori del 2021 e come vedete sono molto diversi gli uni dagli altri, vanno dalle indagini sugli impianti di biodigestione dei rifiuti urbani, dei fanghi di depurazione e il sistema di recupero dei pneumatici fuori uso fino ad arrivare a un'idea di città circolare, una proposta di linee guida, quindi un progetto sicuramente diverso dal precedente, così come diverse assolutamente sono le soluzioni innovative per la riduzione dell'impatto ambientale negli imballaggi dei profumi, fino ad arrivare all'ultimo laboratorio, una community per la transizione ecologica, Waste Travel 2.0. Sono stati impegnativi per i ragazzi, impegnativi per l'azienda, ma di grande soddisfazione e si concludono con una giornata in cui questi laboratori vengono espressi di fronte alle aziende e a tutti gli stakeholder di interesse. Il master avrà inizio il 13 gennaio 2022 e terminerà il 16 dicembre 2022 con la discussione del project work che come vedremo sarà la sintesi del lavoro di stage che è un lavoro abbastanza impegnativo di 480 ore presso un'azienda partner del master. Quindi dopo le 710 ore di formazione d'aula, visite, laboratori e quanto altro abbiamo detto nella seconda parte del master, luglio, settembre e dicembre 2022, abbiamo 480 ore di impegno presso le aziende. La lingua ufficiale del master è l'italiano, non mancano però alcune occasioni di lezioni specifiche, a volte anche in remoto, in inglese. Tutto il master si compone di 75 CFU e per conseguire il titolo almeno 60 dovono essere maturate dai partecipanti. La frequenza al master è non solo impegnativa ma è anche obbligatoria. Mediamente, tranne adattamenti nel corso d'opera, nell'arco del mese due settimane sono dal lunedì al venerdì praticamente full time perché sono otto ore al giorno e altre due settimane sono invece con lezioni concentrate nelle ultime tre giornate della settimana dal mercoledì al venerdì. Quest'anno siamo riusciti a gestire nel modo migliore le lezioni in presenza nonostante alcuni periodi di restrizioni dovute alla gestione pandemica. Ci auguriamo che questa edizione del master possa farci tornare completamente alla normalità della gestione delle lezioni in presenza senza ulteriori interruzioni. Sono possibili alcune assenze non più del 20% di tutte le 710 ore frontali che sono previste e non più del 20% all'interno di ciascun modulo. Durante lo stage non si possono invece superare il 15% delle ore totali del periodo previsto. esistono però ovviamente delle assenze giustificate che non si vanno quindi a sommare alla percentuale totale di assenze che riguardano i colloqui in azienda finalizzati all'individuazione dello stage, le eventuali partecipazioni a seggi elettorali e in Italia non manca quasi mai, discussione di tesi di laurea o esami di stato, incontri con il tutor scientifico quindi della scuola durante lo stage o malattie prego certificato medico. Possono accedere al master e quindi chiedere di essere ammessi tutti coloro che sono in possesso di una laurea magistrale, una laurea specialistica o una laurea vecchio ordinamento titolo equipollente che siano già stati conseguiti entro il termine di scadenza del bando in una università o istituto universitario italiano straniero però di pari grado. Anche i laureandi che però prevedano di terminare prima dell'inizio del master tutti gli esami di profitto. La quota di iscrizione al master è di 8000 euro e include la partecipazione a tutte le lezioni, le esercitazioni pratiche, il materiale didattico, l'assistenza nell'elaborazione del project work e anche una marca da bollo da 16 euro che sarà poi apposta sul diploma. La sistemazione logistica invece di coloro che dovessero venire da fuori Pisa e quindi anche le spese di vitto sono a carico di ciascun partecipante tenendo presente che poi comunque la scuola è dotata per esempio di una mensa che può essere presa se aperta la gestione pandemica come punto di riferimento. È prevista una realizzazione del pagamento della quota di iscrizione così come tutte le aziende partner del master non sono solo queste ce ne sono altre che di anno in anno si danno o il cambio si aggiungono costituiscono anche un monte di risorse che consente di distribuire dei contributi totali o parziali alla copertura della quota di iscrizione. Queste borse di studio totali o parziali vengono assegnate in base alla graduatoria finale della selezione. Dopo i colloqui come vedremo c'è una graduatoria finale che consente quindi il diritto di accesso al master e che consente anche di accedere alle eventuali borse totali o parziali. Ci sono anche alcune borse per vincitori di borsa INPS e ci sono anche ulteriori agevolazioni di borse spesso erogate da enti pubblici o privati in particolare anche secondo determinate normative regionali che consentono di accedere ad agevolazioni della formazione. Per partecipare al master bisogna entrare nei primi 24 classificati e avere comunque un punteggio acquisito superiore a 60 punti sui 100 disponibili. Esistono anche delle agevolazioni delle esenzioni totali per coloro che sono con disabilità riconosciute superiori al 66 per cento in questo caso la quota di iscrizione è completamente annullata per coloro che invece hanno quote di invalidità riconosciute inferiori al 66 per cento la riduzione della quota di accesso è l'1,5 per cento per ogni punto di invalidità riconosciuta. In questo caso serve ovviamente una certificazione medica ben precisa. Le candidature vanno inviate esclusivamente online entro l'11 novembre 2021 entro la mezzanotte e come dicevo per poi la conformazione della gradatoria sono previsti alcune fasi. La prima è la selezione per titoli che la scuola porta a termine mediante una propria commissione interna e poi sempre attraverso un'altra commissione interna esiste un colloquio di selezione in cui vengono attribuiti ulteriori punteggi che si vanno a sommare ai precedenti. Per tutti i criteri di selezione i dettagli sono sul bando di ambizione. Vi ringrazio e spero di essere stato sufficientemente chiaro e sintetico. Grazie mille io ringrazio il professor Frey e l'ingegner Ghezzi per la loro testimonianza. Stanno arrivando moltissime domande continuate a scriverle nella chat nella sezione Q&A e come diciamo anticipato in apertura lascio adesso la parola alla dottoressa Sabarese è un'ex alumna del corso e ci parlerà di quella che è un po' la sua esperienza. Prego. Esattamente grazie mille Federica e grazie a tutti moltissimo per avermi invitata oggi ad essere qui a lasciare la mia testimonianza. Io ormai sono quattro anni da quando ho terminato il master GECA quindi sono un'ex allieva di questo master meraviglioso che a me ha dato l'opportunità di trovare il lavoro che attualmente svolgo. Io lavoro in Enel nell'ufficio di affari istituzionali internazionali del SIO Office quindi che riporta l'amministratore delegato e mi occupo di seguo i paesi dell'America Latina, dell'Africa in cui siamo presenti, le organizzazioni internazionali e i think tank. Quindi questo è il mio campo d'azione. Allora che dire? Inizio subito col dire che in questi anni quindi dal 2017 ad oggi mi sono arrivate veramente tantissime richieste da parte di ragazzi di informazioni sul GECA, ragazzi che erano in qualche modo curiosi e desideravano iscriversi a questo master di secondo livello. Io sono sempre stata super felice di raccontare la mia esperienza proprio da ex allieva quindi lo sono diciamo doppiamente in misura maggiore oggi per avere insomma l'opportunità di farlo attraverso questo webinar. E poi è sempre stata una grande soddisfazione per me insomma vedere che poi questi ragazzi ascoltavano i miei consigli, si facevano in qualche modo influenzare positivamente, sceglievano di scriversi al GECA. Con molti di loro siamo ancora in contatto e e mi raccontano insomma di questa bellissima esperienza che hanno fatto come me. Allora quindi detto questo quindi oggi vi racconto la mia testimonianza ma qualora vogliate maggiori informazioni, scambiare due chiacchiere io sono super disponibile e potete contattarmi tranquillamente su LinkedIn che è una piattaforma che utilizzo moltissimo perché per me offre veramente tante opportunità di ampliare il network di conoscenze, contatti professionali, aggiornamenti nei campi di maggiore interesse di ognuno. Allora io parto un po' dal principio, io nasco biologa nel senso che sono laureata in magistrale in scienze biologiche, dopo la laurea magistrale però capì che non volevo fare la biologa, non volevo lavorare in quest'ambito pur amando moltissimo e tuttora amo la scienza della vita. Però in realtà le opportunità di lavoro che mi si prospettavano non facevano al caso mio, io proprio non volevo lavorare in un laboratorio perché era un po' questo che mi prefiguravo nella mia testa, ma volevo fare un lavoro che mi permettesse di entrare proprio in, di far parte di un team, di interfacciarmi con le persone, coltivare rapporti, relazioni, di entrare perché no in una grande realtà aziendale che avesse anche una vista su più geografie nel mondo. Quindi mi serviva un aggancio, uno step ulteriore post laurea che mi consentisse di fare questo salto e poi mi permettesse di approdare appunto al mondo del lavoro. Mi guardo attorno e scopro il Master Jeka e ho subito pensato che fosse appunto l'occasione giusta per me, quello che stavo cercando, perché in effetti mi permetteva di non allontanarmi troppo dal mio percorso di studi, ma al contrario mi permetteva di approfondire uno dei rami di mio maggiore interesse che era poi quello ambientale, no? E soprattutto apriva la possibilità di esplorare, diciamo, in maniera anche profonda il campo dell'economia circolare. Ecco, una cosa molto importante per me è sottolineare, come diceva anche l'ingegner Ghezzi che questo Master è aperto a tutti i tipi di laurea, quindi non pone nessun vincolo in termini di profilo accademico, basta avere la laurea magistrale e non è scontato in effetti che un Master consenta poi l'accesso ad ogni tipologia di studi pregressa. Quindi niente, mi iscrissi, superai le selezioni, poi ammessa e anche con una borsa di studio parziale, per cui è un'occasione veramente imperdibile. Uno dei punti, diciamo, l'aspetto che maggiormente mi sorprese, chiaramente in senso positivo, fu poi l'entrare in una classe così eterogenea per l'appunto, no? Piccola ma ricchissima, ricca di profili diversi, dalla biologa che sarei io, al geologo, all'ingegnere, a studi umanistici, studi più tecnici, scientifici, quindi c'era veramente un po' di tutto in termini di ricchezza di profili. Io dico sempre che la diversità è ricchezza e la mia esperienza lo fa da testimone, in effetti, no? Perché ricordo che queste lezioni poi si trasformavano sempre in veri e propri dibattiti, molto accesi, c'era tanta curiosità, tante domande, venivano fuori idee innovative, soluzioni e c'era questo questo bel confronto fruttuoso e sempre una contaminazione trasversale tra noi di conoscenze e competenze. E poi, vabbè, altro punto di forza del master, come dicevano anche il professor Frey, l'ingegnere Ghezzi, è la multidisciplinarietà del piano di studi, no? La possibilità che ti dà di spaziare dal campo ambientale nell'ambito del settore energetico a quello idrico, alla gestione dei rifiuti, servizi ecosistemici e l'economia circolare, soprattutto. Quindi, oltre tutto, diciamo, l'approccio allo studio è un approccio sereno, mi sento di dire, è uno studio che si affronta, diciamo, bene, con tranquillità ed è incredibile poi come, diciamo, si diventi quasi parte di una famiglia con tutti gli allievi del master, anche perché le ore di lezione sono veramente tante, quindi si passano, si trascorrono tante ore insieme dal lunedì al venerdì, si diventa parte di un team formidabile, si studia insieme e lo studio poi diventa, no? È demandato all'allievo, no? L'interesse, la curiosità di approfondire un tema piuttosto che l'altro, no? Quindi c'è questa libertà di scelta, il fatto di spaziare su così tante tematiche ti permette anche in qualche modo già di tracciare il tuo percorso professionale, no? Di capire dove voler approdare, arrivare in termini di carriera professionale. E poi oltre alla teoria c'è tanta, tanta pratica, tante testimonianze aziendali, esperienze sul campo, ricordo che andammo in una, conducemmo in un audit con un gruppo, insomma, di allievi di cui facevo parte sotto la supervisione di un docente, di un professore e conducemmo, insomma, il nostro primo audit sui sistemi di gestione in un'industria manifatturiera nota, insomma, attiva nel campo del fashion e fu un'esperienza molto molto formativa. E poi c'è l'esperienza dei laboratori, che è quella proprio che ti dà il primo contatto vero con le aziende, ti permette già di esplorare effettivamente il mondo lavorativo e di vedere le aziende che sono in partnership o in convenzione con la scuola superiore Sant'Anna. Niente, last but not least, come vi dicevo, a me questo master ha dato la possibilità di fare il lavoro che attualmente faccio e che amo moltissimo. Arrivo nel 2017 in Enel Green Power, che è una società del gruppo Enel che si occupa di energie rinnovabili, come stagista tramite convenzione tra Enel Green Power e per l'appunto la scuola Sant'Anna e mi occupo di ambiente da subito. Entro nell'unità di Health, Safety, Environment and Quality di Enel Green Power e lavoro ad un project work, sempre grazie alla convenzione col Sant'Anna, sull'applicazione dell'economia circolare all'energia e alle tecnologie rinnovabili. Quindi prosegue in effetti l'esperienza nell'HSQ per un paio d'anni, prima di Green Power e poi del gruppo Holding, occupandomi principalmente di ambiente e poi approdo, come dicevo, nell'ufficio di affari istituzionali internazionali del C-Office, del gruppo Enel. Sicuramente, diciamo, la chiave vincente è stata arrivare in azienda con un bagaglio di conoscenze, con questo imprinting di sostenibilità ambientale, economia circolare, dato dal master, dal percorso di studi del master, che era proprio esattamente quello che l'azienda cercava. Quindi è stato un po' come trovarsi nel posto giusto, al momento giusto. Ed Enel nel 2017 muoveva anche i suoi primi passi nel campo dell'economia circolare e fu proprio in quell'anno che fu costituita l'unità della Circular Economy, che cercava proprio figure professionali, insomma, con competenze specifiche nel campo, tuttora le cerca e investe moltissimo chiaramente in questo. Ecco, è questa secondo me la chiave, la chiave vincente di tutto. Io credo che, non credo, è chiaramente comprovato e assodato che per una realtà aziendale sia oggi impensabile non cavalcare l'onda verde, io la chiamo della sostenibilità, dell'economia circolare, investire in questo per rimanere a galla sul mercato, per essere competitivo. Quindi ci sono veramente tante, tante prospettive e sbocchi lavorativi in questo campo, mi sento di dirvi. E poi nulla, nient'altro che questo, io voglio fare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi che ci stanno ascoltando, in bocca al lupo per questa scelta. Come vi dicevo, sentitevi liberi di contattarmi su LinkedIn, anche via mail, per approfondire, insomma, un po' di aspetti sul master e scambiare due chiacchiere. Grazie, grazie mille a tutti. Grazie, abbiamo parlato di aziende, la dottoressa Savarese ci ha parlato di aziende, abbiamo il piacere di avere con noi l'ingegnere Codognola e amministratore delegato appunto di una delle aziende partner del master, qui c'è da volentieri la parola. Grazie mille. Buonasera a tutti, è un piacere essere presente a questo appuntamento. Devo dire è diventata ormai un'abitudine da parte nostra che abbiamo iniziato a collaborare, diciamo, non dall'inizio con il master GECA, ma da diversi anni ormai. Direi, sposo tutto quello che ha raccontato la dottoressa Savarese in termini di esperienze che si vivono in azienda e un po' di quello che rappresenta il bagaglio che ci si porta dietro dopo un master di questo tipo quando si in azienda è l'esperienza che abbiamo fatto anche noi, quindi non ripeterò queste cose che ha già detto lei, considerate le valide anche per Itelium. Fatemi raccontare due parole sull'azienda e poi due parole un po' su come vediamo l'inserimento. Allora, Itelium è un gruppo diciamo che ha un po' un profilo basso nel panorama italiano rispetto ad altri che per diversi motivi sono più visibili. Però è un gruppo che ha negli ultimi anni cambiato un po' le regole del gioco nel mondo dei rifiuti industriali in particolare, dei rifiuti industriali pericolosi ed è riuscito a cambiare le regole del gioco perché? Perché in realtà noi non siamo dei cosiddetti rifiutari o della gente che si occupa diciamo a vario titolo di gestire i rifiuti, di fare logistica dei rifiuti o stoccaggio dei rifiuti. Noi siamo un'azienda chimica, questa è un po' la novità, dice ma Itelium si occupa di rifiuti, dice ma o è un'azienda chimica? Noi siamo un'azienda chimica che nel 1963, quindi quando l'economia circolare era un termine che non c'era nel dizionario, la sostenibilità era un altro concetto, significava altro. Nel 1963 nasce per trattare gli oli minerali esausti, quindi tutti i lubrificanti che arrivano a fine vita, che sono normalmente neri, sporchi e fortemente inquinanti e tirarne fuori delle basi lubrificanti rigenerate. In che modo? Applicando le tecnologie che si usavano per la raffinazione del petrolio grezzo ad un rifiuto. Cioè l'idea banale fu ma se io il petrolio grezzo che è altrettanto nero, schifoso, puzzolente, eccetera, inquinante, lo raffino e tiro fuori dei prodotti estremamente validi di qualità, non posso fare lo stesso con un rifiuto che è l'olio lubrificante esausto. Bene, questa fu la scommessa che qualcuno avviò nel 1963 e per diciamo 50 anni quasi è andato avanti a perfezionare questa tecnologia, ovviamente con l'approccio di un tecnologo, di uno che faceva ingegneria di processo e questa nicchia, se volete, nel corso degli anni è diventata un'eccellenza al punto che abbiamo sviluppato noi le tecnologie, siamo il benchmark, siamo stati per molti anni, il benchmark di riferimento al punto che l'azienda che si chiamava allora Viscolube, nel mondo quando si parlava del processo di rigenerazione si parlava del processo Viscolube, non del processo di rigenerazione degli oli. E questo quando una tecnologia si identifica col nome di chi l'ha inventata, insomma ha un significato, perché la copertura era ed è internazionale. Bene, quindi per 50 anni abbiamo preso un rifiuto pericoloso, faccio presente appunto uno, sempre quello, l'abbiamo trasformato in una base lubrificante rigenerata che aveva le stesse qualità chimico, fisico, chimiche e fisiche del prodotto vergine. Quindi a differenza dei prodotti riciclati come fatemi dire la carta è riciclata che non è uguale a quella vergine, ha tante proprietà ma non risulta uguale, uno la riesce a notare che è riciclata. Ecco nel caso delle basi lubrificanti noi riuscivamo e riusciamo a fare un prodotto indistinguibile. Se ci pensate è un'economia circolare perfetta, quindi il prodotto diventa rifiuto, quel rifiuto viene trattato e torna ad essere esattamente quel prodotto che ha generato il rifiuto. Ecco nel 2012 cosa succede? Succede che un fondo di private equity, quindi qui entrano anche logiche finanziarie che poi come vedrete nel corso del master sono entrate prepotentemente nell'ambiente, nella sostenibilità e devo dire oggi diventano dei parametri di valutazione e di riferimento quasi prioritari delle aziende. Prima di guardare il ritorno in equity si guarda l'indice di circolarità e non sto scherzando, cioè molti investitori questo fanno. Dicevo nel 2012 questa nicchia di queste eccellenze viene acquisita da un fondo di private equity che dice ma guarda un po', tecnologia applicata all'ambiente, tecnologia che trasforma rifiuti in risorse. Questo è il trend, questo è il mega trend del futuro, ovviamente i finanziari queste cose le vedono molto prima, avevano capito che c'era un mega trend che stava partendo e quindi ci hanno acquisito, io ho raggiunto il gruppo in quel momento e che cosa hanno fatto? Ci hanno spinto a allargarci, a integrarci, si dice a monte, a valle, a fare diciamo una crescita orizzontale per portare questa formamenti, questo approccio alla filiera del rifiuto, alla circolarità del rifiuto in altre filiere, in altre tipologie di rifiuto per estendere questo esempio virtuoso. La faccio molto breve, nel corso degli anni cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto lo stesso mestiere nel campo dei solventi, quindi prendiamo i solventi esausti dall'industria tipicamente farmaceutica, li rigeneriamo, produciamo dei solventi rigenerati che rivendiamo sul mercato. E poi abbiamo capito che questo approccio diciamo che massimizza il recupero, il riciclo delle risorse era un approccio che il mercato, i clienti, coloro che producono i rifiuti nelle varie aziende stavano cercando. La domanda c'era, era una domanda diciamo a volte inespressa perché non c'era l'offerta, cioè non c'era il soggetto in grado di affrontare la problematica dei rifiuti in un'ottica circolare, in un'ottica di massimizzazione del recupero attraverso la tecnologia. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a comprare delle aziende che gestivano i rifiuti industriali, un po' tutti, dalle morchie, agli imballaggi, alle emulsioni, ai liquidi solidi eccetera, per conto delle aziende. Quindi andavano alle aziende diceva me ne occupo io, ma come me ne occupo? E qui è arrivato il nostro modo di lavorare, me ne occupo con un'analisi chimica, con una caratterizzazione, con l'individuazione di quei trattamenti o pretrattamenti che consentono di massimizzare il recupero opposto alla distruzione, discarica, incenerimento. Ecco, questo è il percorso di tema. Oggi questa realtà, dicevo che è un po' sottotraccia, due anni fa si è data questo nome, Italium, per dare un'identità unica a tutte queste aziende che abbiamo comprato, circa una ventina in questi anni. Siamo 850 persone e gestiamo un milione e mezzo, forse un milione e 800 mila tonnellate di rifiuti industriali all'anno, in buona parte per i coloni. Ecco, la collaborazione in questi anni con Sant'Anna è stata molto molto bella, molto piacevole. Un paio di risorse si sono poi fermate a lavorare con noi. Ultimamente, nell'ultimo anno, ad esempio, non siamo riusciti a portare a bordo risorse neanche per lo stage, perché a un certo punto sono state catturate dall'industria. Hanno avuto un'opportunità di un lavoro a tempo indeterminato da subito e questo ve la dice lunga sulla validità di questo master e sull'appetito che il mercato ha di figure che coniughino questo tipo di sensibilità, di competenze, siano in grado di vederle in un'ottica complessiva. Ecco, questo, se volete, anche da esperienze che io ho fatto affiancando, diciamo, il professor Frey in qualche lezione mi ha chiamato a raccontare un po' le nostre esperienze, ecco, parlando con voi, con i futuri studenti, ecco, ho colto un po' come vi sia questa capacità del master di darvi una sensibilità a tutto tondo di queste dinamiche. Vi ho accenato solo brevemente a quella finanziaria. Ecco, io mi fermerei qui per lasciare un po' di spazio alle domande. È collegata la dottoressa Lucchini, che è una mia collega responsabile della sostenibilità del gruppo, a cui vi prego di indirizzare qualche domanda, anche perché adesso mi devo staccare, mi scusi in anticipo con voi, però lei rimane e magari vi può dare qualche spunto su come la finanza e la sostenibilità sono veramente collegati in modo stretto, intimo, come i driver del futuro per valutare, diciamo, il valore delle aziende e la loro capacità di resistere a fronte dei cambiamenti che nessuno di noi oggi immagina ancora, nessuno di noi ancora sa esattamente come cambieranno le aziende. Bene, coloro che si reputa, si considera, saranno più forti sono quelle che hanno dentro alcuni elementi. Ecco, chiedeteli e magari Valentina potrà assieme a Marco Frey, a Paolo Ghezzi e gli altri darvi qualche esempio perché ce n'è uno proprio recente che ci riguarda e che magari Valentina vi potrà raccontare. Grazie veramente dell'invito a Marco e i suoi colleghi, a dottoressa Cocco e io mi concedo perché ho un'altra conferenza che inizia proprio ora. Grazie Marco. Grazie, grazie davvero. Grazie per la disponibilità e appunto vi invitiamo a scrivere tutte le vostre domande. Nel frattempo sono arrivate delle domande che avrei piacere magari di porre ai nostri relatori. Prego professor Frey. Sì, molte delle risposte le ha gerate Paolo Ghezzi in chat, quindi sono state risposte individualizzate su ciascuna delle singole domande. In estrema sintesi, il processo di ammissione è una selezione a cui sono ammessi anche laureandi, purché finiscano il percorso nella sessione straordinaria prima dell'inizio del master che è a gennaio, quindi questa è la condizione, quindi possono essere laureandi che partecipano alla selezione ma devono essere proprio alla fine del loro percorso. In realtà l'aula, come è stato detto, è abbastanza variegata, per cui non so, nell'ultimo anno c'era una prevalenza di persone giovane, quindi anche con neolaureati rispondendo a un'altra delle domande, ovviamente se lo sono anche quelli che non hanno ancora finito il percorso ammissibili e devo dire l'anno scorso me ne ricordo almeno uno che aveva quelle caratteristiche. Poi un buon numero di persone giovani, quindi o laureati recentemente o comunque a pochi anni dalla laurea, ma anche persone senior, nel senso che il mix non è soltanto disciplinare ma anche dal punto di vista delle caratteristiche in sé. E poi sulle altre domande, sul carico didattico, eccetera, rispondo a una domanda che non c'è stata, il master sarà in presenza. Alla scuola noi già da tempo siamo ritornati completamente in presenza perché è una realtà, credo che chi è presente la conosca, comunque è una realtà caratterizzata da numeri relativamente piccoli. Noi siamo in una situazione paradossale per cui abbiamo più studenti di dottorato, PhD students alla scuola, che allievi ordinari che risiedono lì perché ovviamente incorpora un collegio in sé e il master, tra l'altro noi teniamo lezione proprio nella sede principale della scuola, nel cortile interno principale c'è la nostra aula, è strettamente integrata con quella che è la vita di una scuola superiore, è una scuola universitaria superiore. Approfitterei per chiedere una domanda che ci sta posta, quindi sulle nuove figure professionali che può creare il modello green e ci viene chiesto quanto può essere utile questo master per sbocchi professionali, quindi magari quali sono le nuove? Allora, il tema delle nuove figure professionali, tra l'altro, è oggetto di tutta una serie di approfondimenti di questi tempi da parte di diversi attori, quindi è un tema non sintetizzabile in una risposta sintetica, però effettivamente sono molteplici, cioè tenete conto che tutte le transizioni di cui stiamo parlando, quella energetica, quella verso la decarbonizzazione, quella verso l'economia circolare in senso più stretto, finiscono col richiedere figure che abbiano competente il più possibile avanzate. Avete visto il dato di quella grafico in cui i due terzi delle figure nuovamente assunte all'interno delle imprese nell'area ricerca, sviluppo, innovazione, abbiano quel tipo di caratteristiche. Quindi diciamo che già nelle imprese esistenti c'è una fortissima attenzione in quest'ottica e poi c'è ovunque, c'è nelle società di consulenza che stanno cercando profili di questo tipo in questo periodo in maniera particolarmente intensa, cioè da parte del stesso mercato autogenerante, cioè c'è un'imprenditorialità nelle start-up che si muovono su queste tematiche particolarmente significativo. Poi se si vuole entrare nel merito sono tantissime le professionalità richieste e ovviamente anche il Green Deal, PNRR, stanno spingendo molto. Stanno spingendo molto in questo momento anche sulla parte infrastrutturale che è stata storicamente una caratteristica limite del nostro paese e in cui è importante andare in questa situazione. Però su questo voglio riportarvi. Oggi ero proprio all'evento con i giovani della COP26, tra l'altro il Ministro Cincolani ci ha fatto un po' anche la sintesi di quello che aveva messo, ma ho avuto la fortuna di avere i due rappresentanti italiani in un panel in cui discutevano insieme e la cosa più bella è vedere l'entusiasmo che i giovani hanno su questi temi e quindi la voglia tra l'altro da privilegiati, perché noi nei paesi occidentali siamo privilegiati, di dare un contributo a questa trasformazione del modo di fare economia che un po' ha nell'economia circolare la sua caratteristica principale. Quindi diciamo che questo spirito del mettersi in gioco e del voler costruire il proprio percorso professionale è l'altra parte fondamentale. E' un master di successo ci sono tre cose che ci devono essere, che è importante che ci sia in modo anche significativo, una buona offerta didattica e quindi dei buoni docenti, dei buoni partner e abbiamo una ventina di imprese partner, quindi i rapporti che si sono consolidati nel tempo, quindi l'Italium è solo una delle illustrazioni che potevamo mettere a disposizione in un'oretta e la terza cosa una buona aura. Per noi è importantissimo riuscire a fare una buona selezione e far sì che ogni anno, negli ultimi anni, questo siamo riusciti a farlo e siamo molto contenti, sia di qualità perché così tutto quel meccanismo virtuoso che dicevamo si mette in moto e la nostra ricaduta più diretta ce l'abbiamo nell'attività di laboratorio in cui queste tre componenti, i docenti, le imprese e gli allievi lavorano insieme. Grazie, rimano molte domande appunto su quelle che sono, se abbiamo dei dati sul range occupazionali, sbocchi lavorativi, anche nell'intervento della dottoressa Savarese ci ha parlato di quanto questo master fosse stato importante per la sua carriera ma magari anche seguito da vicino delle persone che diciamo le hanno chiesto un consiglio. Quindi magari volevo chiedere se volevate approfondire o magari abbiamo raccontato tanto, ovviamente è molto difficile cercare di riassumere tutto in un'ora. A me sembra che Paolo Ghezzi è stato diligentissimo e abbia risposto a tutto il tempo a tutte le domande che arrivavano. Quindi se qualcuno avesse qualcosa in più da chiedere a ciò che ha chiesto, siamo a disposizione anche alzando la mano e aprendo la voce direttamente, credo che possano. Sì sì sì, ecco vediamo Caterina che ci ha chiesto se appunto ci vuole scrivere quello che poteva essere il suo dubbio, la sua domanda e nel frattempo vi ricordo che comunque al termine di questo evento vi condivideremo anche una mail e andremo a condividere con voi un indirizzo mail al quale potete scrivere qualsiasi dubbio e domanda anche diciamo successiva, come magari indicava anche prima la dottoressa Savarese nel suo intervento qualora vogliate appunto magari entrano in contatto tramite LinkedIn, sono a disposizione. In chiusura io vorrei ringraziare tutti voi per la vostra partecipazione, per il vostro contributo, per averci parlato di questo master, per aver aggiunto quelle che sono le vostre testimonianze e vi ricordo che come termine di ammissione, se non erro, dovrebbe essere i primi di novembre come data, ci stavano chiedendo orario di lezione ma li rivedrò sulle slide, quindi eventualmente appunto abbiamo registrato l'intervento che vi andremo a condividere. Comunque la risposta è che le lezioni sono quasi full time, come è stato scritto poi nella risposta di Paolo Ghezzi, non tutti i giorni della settimana, in tutte le settimane, nel senso che c'è ogni tanto un po' di spazio lasciato libero per consentire all'approfondimento lo studio, però l'impegno è full time, quindi c'era un'altra domanda ma già ha risposto Ghezzi, non è compatibile con un'attività lavorativa mantenuta, non è un master executive in questo caso, è proprio un master full time. Perfetto, grazie mille, io vi ringrazio e ringrazio tutti voi per essere rimasti connessi e quindi alla prossima, quindi vi auguriamo una buona serata. Grazie mille. Ciao, grazie. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao Valentina. Ciao Valentina.